Buongiorno da Metaponto, guardate questa è una strada che conduce ad alcuni villaggi turistici e a alcune case lì in fondo. Guardate l'acqua ha raggiunto il metro d'altezza e queste sono le conseguenze delle ultime piogge di oltre 24 ore di pioggia, circa 200 mm caduti qui sulla Basilicata. Conseguenza delle sondazioni del fiume Bradano e di alcuni canali che non hanno più tenuto l'acqua piovana. Poco fa è partita una squadra della protezione civile per raggiungere una trentina di cittadini extracomunitari che sono ospitati proprio in queste strutture turistiche e sono rimasti bloccati lì. Altre famiglie sono state invece evacuate fortunatamente nella serata di ieri, circa 200 gli sfollati fino a questo momento in Basilicata, in tutti i comuni della fascia ionica lucana interessati dal violento nubifragio che si è abbattuto negli ultimi due giorni in tutto il centro-sud. Qui ci sono altri cittadini, i proprietari dei villaggi turistici stanno aspettando che arrivino i mezzi idonei appunto per affrontare questa che è una vera e propria emergenza. L'acqua è alta, oggi le scuole restano chiuse in una quindicina di comuni del Materano così come a Matera città. C'è stata una grande opera di prevenzione, fortunatamente questo disastro non ha fatto vittime, ricordiamo che meno di due mesi fa tra Basilicata e Puglia ci sono stati quattro morti proprio a causa di un violento nubifragio. La macchina delle prevenzioni ha funzionato tanti però ancora una volta i danni alle abitazioni e alle aziende agricole, agli esercizi commerciali. Gianni Fabris del Comitato Difendiamo le Terre Ioniche che fa rete, coordina la rete degli agricoltori, dei cittadini che in queste ore importantissime si sono scambiati tutte le informazioni necessarie. La prevenzione c'è stata questa volta? Sì, mai come questa volta i cittadini erano informati, erano avvertiti, sarà per questo che non abbiamo registrato morti. Mi rimane l'amarezza di dover constatare che se fosse accaduto per esempio il 7 di ottobre quei quattro morti che ci sono stati fra Ginosa e Metaponto non ci sarebbero stati così come probabilmente non ci sarebbero stati in Sardegna. Ora però ci rimane il problema, i morti non ci sono ma c'è una situazione ormai ben nota e conosciuta, questo è uno dei punti critici, ogni volta accade questo perché non si interviene, è un punto che ormai non è possibile più non avere risposte. Bisogna avere delle risposte, ricordiamo che la situazione resta critica, il meteo in questo momento, il tempo, il maltempo ha concesso una tregua, non piove più da alcune ore, tuttavia resta bloccata la viabilità sulle strade principali, arterie importanti di collegamento come la statale 106 Ionica che unisce Puglia, Basilicata e Calabria, ancora interrotta all'altezza di Metaponto, chiusi i sottopassi all'altezza di Scanzano Ionico per allagamenti, interrotta anche la strada statale Basentana, l'unica grande arteria che attraversa tutta la Basilicata. così come la statale Valdagri e Vecchie Frane si sono rimesse in movimento, dunque davvero Basilicata ancora una volta messa in ginocchio da questo ennesimo evento che è stato previsto, fortunatamente non ha fatto vittima, ma il territorio è davvero provato. Da Metaponto è tutto, a te la linea.